Ciao a tutti ragazze, sono sempre io la Postrechetti e questo è il video di presentazione delle nuovissime tonalità flash in una versione nuova magnetica. Andiamo a vederli più da vicino e soprattutto parliamo di questi prodotti che sono veramente particolari. I semi permanenti flash sono dotati di un glitter metallico che a contatto con la luce del sole conferisce una brillantezza assoluta. Si può dire che se noi vogliamo veramente il glitter più brillante che ci sia prendiamo assolutamente un flash. In questo caso queste quattro tonalità sono state arricchite dall'aggiunta di un glitter olografico che vedremo più avanti in una versione macro che ho deciso di fare proprio per farvi notare questa ricchezza di glitter e di luce che possiede un prodotto come questo. C'è anche da dire che rispetto ai classici flash questi nuovi prodotti sono un po' più liquidi e questo permetterà una maggiore facilità di stesura del prodotto stesso quindi insomma sarà veramente una passeggiata e soprattutto sarà molto divertente fare tutti gli effetti anche di sfumatura tra i colori stessi oppure su altri colori per dare, per donare proprio maggiore brillantezza. Andiamo a vederli insieme ed ecco la versione macro, la visuale macro dove potete notare appunto questi glitter bellissimi. Ma c'è una novità perché si chiamano magnetic? perché sono dei flash che oltre ad avere il glitter olografico in più hanno anche la capacità di modularsi e ottenere appunto l'effetto di un tiger eye, quindi l'effetto magnete. Quindi oltre al glitter flash al glitter olografico abbiamo anche la possibilità di creare questo fascio di luce interna che si noterà ovviamente qualora la mano insomma si muovesse. Quindi nel momento in cui andiamo ad applicarlo e a creare l'effetto magnete durante il movimento della mano vedremo anche questo fascio di luce interna che adesso è visibile. Io ho realizzato una tip abbastanza veloce dove una volta applicato il 3 step 200 polimerizzato, realizzata la nostra fascetta con il flash sand siamo andati poi ad arricchire con l'ornamento champagne. Effetto strepitoso e soprattutto molto elegante. Sapete che potete trovarci nelle aule corsi di tutta Italia che potete consultare il nostro sito crystalnails.it e soprattutto le nostre pagine facebook e instagram crystalnails.it. A presto ragazze!